Oggi vediamo insieme un trattamento di Refil con Pink Builder e kit massima aderenza. Con una lima di grit 1180 eseguo la limatura di preparazione al trattamento di Refil. Con la punta cono tronco diamantata spingo le cuticole e creo il muretto cuticolare. Con la punta conica diamantata sollevo le cuticole e creo il canale cuticolare. Per garantire l'adesione di 4 settimane del prodotto costruttore applico kit massima aderenza. Tutti i metodi e procedimenti sono descritti sul mio manuale tecnico la ricostruzione unghie secondo Micole in vendita su Amazon. Con pennello tondo lungo applico Pink Builder. Tutti i prodotti di questo video e molti altri sono disponibili sul nostro sito www.leunghiedimicole.com Con una lima di grit 1180 eseguo la limatura strutturale. La limatura strutturale e tanti altri argomenti saranno oggetto del corso online a breve disponibile. Seguici sui nostri canali per non perdere gli aggiornamenti. Con pennello perfetto ed eco gel eseguo la nail art in superficie. Se vuoi confrontarti con tante altre ragazze puoi iscriverti al nostro gruppo chiuso di Facebook Le Unghie di Micole. Per vedere come tornano le mie clienti dopo 4 settimane seguimi sulle storie di Instagram al profilo Micole trattino basso Passanisi. Con pennello a punta fine ed eco gel completo la nail art. Sul nostro canale di Youtube Le Unghie di Micole puoi trovare spiegazioni tecniche e tutorial. Applico due sesure di gel colorato a cielo. Sigillo la nail art con Magic Shine, sigillante senza dispersione e con filtri UV anti-ingiallimento. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e condividere. Grazie!